Il sesto risultato utile consecutivo che porta la terza vittoria nella miniserie fa tornare il sorriso al presidente Campitelli, che torna a vedere il suo Teramo nelle zone nobili della classifica. Con il Prato è stato meno facile del previsto, ma il risultato non è stato mai in discussione. Troppo superiore questo Teramo ai Toscani per rischiare di non vincerla questa partita. Insomma, il 5-3-2 utilizzato da Vivarini nelle ultime sei gare funziona e come. Soprattutto quando davanti si hanno due come Lapadula e Donnarumma. Sono proprio loro a far girare l'attacco bianco-rosso. Dopo dieci minuti, primo squillo di Lapadula, che dal limite prova a cercare l'angolo buono e non lo trova per poco. La replica pratese arriva al diciannovesimo con Rubino, che dalla sinistra impegna Tonti. Ma il Teramo non è in vena di regali. Basta guardare cosa combina Donnarumma al trentaduesimo. Come si libera dal limite con un paio di giocate, gli manca solo un pizzico di precisione in più. Al quarantatresimo di Paola Antonio da punizione pesca Diachite sul secondo palo. L'intervento è intempestivo ma Brunelli chiude la porta. Nel finale di primo tempo il Teramo fa vedere di che pasta è fatto e dopo una bella azione riesce a mandare Donnarumma al tiro da dentro l'area. Ma il ginocchio di un difensore e la mano di Brunelli concedono solo un calcio d'angolo ai bianco-rossi. Si capisce che serve solo sbloccare il risultato per portare a casa la partita e il Teramo lo fa in apertura di ripresa. Dopo soli cinque minuti la Padula e Donnarumma, sempre loro, duettano al limite dell'area toscana. Sfruttano anche un rimpallo favorevole. Donnarumma si ritrova tu per tu con Brunelli e questa volta non può sbagliare. Il gol del vantaggio quasi distrae il Teramo. Amadio perde una palla pericolosa da via libera a Romanò, che trova però pronto Tonti alla parata. Passano quattro minuti e Di Paolo Antonio dalla distanza prova a pizzicare Brunelli senza però riuscirci. Il Teramo al tredicesimo e al ventunesimo altre due palle gol clamorose ma non riesce a sfruttarle. Il Prato ha quella del pareggio al ventitreesimo ma Tonti è bravo e poi la partita si chiude con buon aiuto messo in campo da Vivarini dopo le polemiche di qualche giorno fa con il presidente Campitelli che manca di poco il gol del raddoppio al quarantottesimo. Sarebbe stata la giusta conclusione di un pomeriggio tutto sommato soddisfacente. Grazie.